173 preghiera per i turisti o signore tutti quelli che entrano in questa chiesa sono figli tuoi degnati di rivolgere loro il tuo sguardo perché ti scoprono nella bellezza che ammirano molti vengono solo per vedere come zaccheo che si arrampicò su un albero curiosità cultura pochi sanno o si ricordano che ci sei tu nel sacramento dell'eucaristia ma tu guardi tutti ugualmente con amore ti nascondi nel bene nel bello fa che lo sguardo a questi capolavori vada colui che ha creato e guidato le mani degli artisti che scoprono te bellezza e bontà infinita in loro e nel creato che tutti ti adorino e ti ringrazino pur non ti riconoscono fa che uscendo da questa chiesa tornino nelle proprie famiglie comunicando agli altri questa tua presenza guarda con malevolenza e compiacenza quelli che entrando con la mano si fanno il segno della croce anche se veloce e ristretto sorridi a chi tenta di fare anche una genuflessione hanno fede fa che l'abbino in abbondanza da poterla manifestare con coraggio sempre maggiore sorridi ugualmente a coloro che entrano distratti che forse non ti conoscono o comunque non pensano che sei tu il centro della chiesa e stai lì a guardarli anzi a chiamarli accostati a chi è più lontano fatti invitare per entrare a casa loro nella ruita come facesti con Zaccheo fatti aiutare dalla mamma tua e nostra